Il gruppo Andrea Perelli ad occuparsi del caso Solvay, i giudici della Corte d'Appelo di Torino hanno deciso di respingere la richiesta di ricusazione presentata dai due legali degli ex amministratori della multinazionale di Spinetta Marengo. Ancora furti a Malmadonna, gli abitanti hanno organizzato un incontro previsto per il prossimo lunedì per discutere sulle soluzioni da poter avviare per mettere fine a questo problema, tra queste l'ipotesi di aumentare le telecamere di sorveglianza. Scomparso un ragazzo di 38 anni di Novi Ligure, si tratta di Francesco Bobbio. L'appello è stato lanciato dalla madre che si è rivolta all'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l'episodio. Commemorato questa mattina il bombardamento del 5 aprile del 1945, dove ad Alessandria morirono 160 persone, tra cui 28 bambini, durante la cerimonia è stata posta una lapide sulla facciata esterna dell'istituto di Via Gagliaudo al Civico 3, proprio dove avvennero i fatti. Buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione. Come avete sentito, quindi sarà il Gup Andrea Perelli ad occuparsi del caso Solveig. I giudici della Corte d'Appello di Torino hanno deciso di respingere la richiesta di ricusazione presentata dai due legali degli ex amministratori della multinazionale di Spinetta. Il Gup Perelli, secondo la difesa, aveva già disposto il sequestro di una parte delle discariche dei gessi che si trovano all'interno del polo chimico di Spinetta, per cui sarebbe stato incompatibile ad entrare nella controversia. La Procura della Repubblica di Alessandria aveva chiuso l'inchiesta contro la Solveig di Spinetta Marengo contestando a Stefano Bigini e Andrea Diotto un'ipotesi di disastro ambientale colposo. Sotto accusa anche l'azienda per l'ipotesi di responsabilità amministrativa commessa a vantaggio nell'interesse dell'ente per il risparmio dei costi di bonifica e la maggiore efficacia nella produzione industriale. Non c'è ancora niente di ufficiale, verranno studiate le motivazioni del rispengimento e si deciderà se ricorrere alla Cassazione. Esasperati dai continui furti, gli abitanti di Val Madonna e il soborgo di Alessandria si riuniranno il prossimo lunedì alle ore 18.30 nel Salone della Parrocchia per discutere sulle soluzioni da poter avviare per mettere fino a questo problema che assilla i residenti del soborgo e i paesi limitrofi come San Salvatore e Pietramarazzi. Si cercherà di capire se l'ipotesi di aumentare le telecamere di sorveglianza possa essere un valido supporto per avere più sicurezza. È più probabile che gli abitanti decidano di autotassarsi per installare nuovi sistemi di sorveglianza. Alla riunione dovrebbero partecipare anche alcuni amministratori comunali e rappresentanti delle forze dell'ordine. Torniamo adesso a parlare di nucleare perché si sono conclusi ieri sera a Cassine, nella Quese, gli incontri con la cittadinanza programmati per informare sui dischi di un deposito nucleare in provincia di Alessandria. Domani alle 15 la grande mobilitazione di protesta con partenza in viale della Repubblica ad Alessandria e arrivo davanti alla Prefettura. Sentiamo Catti Porcento. Si sono conclusi ieri sera a Cassine, nella Quese, gli innumerevoli incontri promossi dal comitato che da mesi si batte contro il progetto di un deposito unico di scorie nucleari in provincia di Alessandria. Incontri che hanno informato la cittadinanza sul significato di un impianto del genere sulle proprie terre. Ora si guarda verso la mobilitazione generale in programma per domani a partire dalle 15 da viale della Repubblica. Il corteo si snoderà per le vie del centro fino ad arrivare davanti alla Prefettura. In testa i sindaci del territorio, uno fra tutti quello di Castelletto Monferrato Gianluca Colletti e il presidente della provincia Enrico Bussalino. Nulla per la verità è stato ancora deciso, in quanto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato sul sito istituzionale l'elenco di 51 aree presenti nella Carta Nazionale tra quelle idonee, ma il punto è che 5 sono in provincia di Alessandria. La discarica prevede che al suo interno vengano deposti 17.000 metri cubi di scorie nucleari ad alta radioattività provenienti dalle centrali nucleari dismesse, che per perdere la propria pericolosità impiegano migliaia di anni. Accettare questo deposito, spiegano dal Comitato, significa condannare la nostra terra ad essere la discarica nucleare d'Italia. Significerebbe condannare noi e le generazioni future. Abbiamo già grandi problemi ambientali e necessitiamo di bonifiche, non di nuovi impianti del genere. In effetti la provincia di Alessandria non è certo nuova a disastri legati alle produzioni pericolose, senza dimenticare, passando per l'acna di Cengel e Colibarna di Serra Valdescrivia, all'alto tasso di tumori che ancora sta pagando per l'Eternit di Casale Monferrato. Tra l'altro va anche sottolineato che questo impianto avrà un impatto notevole sul territorio, visto che si parla di un'estensione pari a 207 campi da calcio. Ma non solo, si parla anche di un terreno caratterizzato da falde affioranti e profonde, che di per sé sono una risorsa idrica molto importante. Tutti i tecnici interpellati hanno espresso parere negativo per la realizzazione di questa enorme discarica sul nostro territorio. Si legge ancora sul comunicato. La nostra posizione si basa esclusivamente su criteri tecnici e non ideologici. La discarica di scorie radioattive non crea energia. Non è una questione relativa a nucleare, sì oppure no. Bensì un grande rischio ambientale e sanitario per questo territorio. Nuovo sciopero generale il prossimo 11 aprile indetto dalla CGL Will sarà di 4 ore per tutti i lavoratori dei settori privati, mentre durerà 8 ore per le categorie degli edili dei metalmeccanici. La manifestazione territoriale delle sigle sindacali di Alessandria e Asti si terrà ad Alessandria giovedì prossimo con ritrovo alle 9.30 in piazza del Tricolore, vicino al monumento e caduti di fronte al Tribunale. Il corteo dei lavoratori e lavoratrici si muoverà per le vie cittadine per raggiungere il piazzetto della Lega dove ci sarà spazio per gli interventi delle delegate e dei delegati ai quali seguiranno le conclusioni a cura dei segretari provinciali di CGL e Will. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno la sicurezza sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale e di impresa. Si chiama Francesco Bobbio, da poco compiuto 38 anni, il ragazzo di Novi Ligure che è scomparso in queste ore a lanciare l'appello all'Associazione Nazionale dei Carabinieri è stata la madre. Secondo le prime informazioni il giovane che soffrirebbe di problemi psichici si sarebbe allontanato a piedi e senza documenti né telefono né chiavi. Negli scorsi anni aveva gestito una tabaccheria a Sezzadio. Ed era il 5 aprile del 1945 quando l'asilo di Via Gagliaudo d'Alessandria venne bombardato provocando 160 morti tra cui 28 bambini e 500 feriti. Un bombardamento che risulta essere l'unico effettuato poco prima della liberazione quando ormai era chiaro che si sarebbe conclusa la guerra. Oggi come ogni anno quel tragico episodio è stato commemorato davanti alla lapide posta sulla facciata esterna dell'Istituto di Via Gagliaudo al Civico 3. Durante la commemorazione è stata fatta la precisa cronaca che le suore scrissero nei giorni immediatamente successivi al bombardamento così come viene riportata da Renzo Penna nel volume Vittime Dimenticate. Bene, siamo giunti allo sport. Il prossimo fine settimana calcistico potrebbe emettere già alcuni verdetti per la formazione della provincia. La matematica infatti potrebbe condannare all'Alessandria Calcio alla retrocessione in Serie D e consentire alla Vavadese attualmente in promozione il passaggio di categoria. Gli appuntamenti calcistici del fine settimana li trovate fra poco nella pagina sportiva curata come sempre dal nostro Fabrizio Mattana. A seguire ci saranno le previsioni meteorologiche a cura di trebimeteocom.com e io come sempre vi ricordo di seguirci sul nostro sito internet delle siti news24.it per tutte le informazioni sulla provincia dell'Alessandria, tutta la regione Piemonte e la regione Liguria. Bene, io vi auguro un buon fine settimana, grazie per stati con noi e ci vediamo alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.